Il mio nome è Vel Apuco. Sono nato a Cere, da voi conosciuta come Cerveteri, più di 2300 anni fa, in un tempo in cui Roma aveva già iniziato la sua espansione nell'Etruria meridionale. Posso definirmi abbastanza edotto sulla mia gente, sul mio mondo. Per questo ho il compito di guidarvi alla loro scoperta. Sapete, stando nel museo da tanto tempo, sono venuto a conoscenza di aneddoti, numerose storie e desidero condividerli insieme a voi. Ma torniamo al Cratere. È autografata da Eufronio in persona, il suo artefice, con la scritta Egrafsen, che in greco vuol dire divinse. Se dedicate un po' di tempo a questo straordinario racconto per immagini, noterete che vi sono rappresentate due storie emozionanti. La prima narra dello sfortunato eroe omerico Sarpedonte, principe di Licia, ucciso dagli Achei nella guerra di Troia, perché è alleato dei troiani. Il corpo del principe viene trasportato dalle divinità Hypnos, il sonno, e Thanatos, la morte. Posso definirmi abbastanza edotto sulla mia gente, sul mio mondo. Per questo ho il compito di guidarvi alla loro scoperta e di svelarvi alcuni aspetti ancora poco conosciuti.